inizio di stagione bagnato per il Borgo Moiano di mister Claudio Eleuteri che ritrova il sintetico dello stadio Sticchi di Tolentino dove il club di Moiano ha deciso di giocare e allenarsi per tutta la prossima stagione sportiva una scelta necessaria per il rifacimento dell'impianto di Moiano che sarà rifatto completamente in sintetico per il club alla prima volta in prima categoria e per questo tutte le energie si sono concentrate sul mercato con gli ultimi due colpi che hanno visto arrivare nei giorni scorsi Alessandro Sfrappini attaccante classe 2002 ex Settempeda e l'arrivo dell'ultima ora l'esperto difensore Andrea Verdicchio classe 1986 noi eravamo lì queste sono le interviste tardi Adriano allora il Borgo Moiano parte qui a Tolentino con la preparazione sotto la pioggia che emozione avete prima stagione? Allora la pioggia è una bella emozione perché l'anno scorso sotto la pioggia abbiamo vinto il campionato quindi ripartire con la pioggia secondo me è un buono spigio e è chiaro siamo molto tutti contenti tutti emozionati tutti molto stimolati da questo nuovo da questo nuovo impegno che è la prima categoria che noi non abbiamo affrontato mai ma come tutte le altre stagioni che abbiamo affrontato ci metteremo il nostro massimo impegno e la nostra massima stimolo e direzione per far sì che insomma si realizzi un nuovo progetto importante. Società molto attiva anche sul mercato perché è arrivato Verdicchio, i giorni scorsi era arrivato un altro giovane attaccante? Sì, allora abbiamo seguito le indicazioni del mister, è chiaro che abbiamo dovuto con il salto di categoria cambiare molto la rosa quindi abbiamo fatto circa una diecina, dodici innesti e siamo andati a completare dei reparti dove eravamo ancora un po' indietro. Diciamo che a questo punto potremmo considerare concluso il mercato da valutare eventualmente altre opportunità però ormai è una rossa di 23 giocatori quindi credo che sia completa la squadra. Andrei Verdicchio è l'ultimo colpo del Borgo Moiano questa scelta? La scelta serve per ricominciare perché vengo da due anni praticamente in attività, l'anno scorso mi sono allenato a Casette ma ho giocato poco o niente, venivo da un anno e mezzo di infortunio quindi è un po' un punto di inizio, di rinizio. Questa voglia di tornare sul campo di calcio? Nonostante i 38 anni fra cinque giorni si è voglia di giocare. Quindi c'è questa passione, come vedi questo campionato perché ce ne parla molto della prima? Sì vedo un campionato sicuramente equilibrato sopra con quattro cinque squadre ben attrezzate ma penso che anche noi possiamo dire la nostra e siamo qua proprio per sorprendere. Eccola Claudio e Luteri, la prima seduta di allenamento di questo campionato bellissimo, l'ultimo arrivo, è stata una tua idea? Dovevamo, come abbiamo detto l'altra volta, completare la rosa e diciamo che abbiamo aspettato, non ci siamo affrettati insomma, abbiamo aspettato l'occasione giusta e quindi abbiamo completato con un giocatore d'esperienza che era quello che ci serviva un po' per completare, per finire. Le due matricole, Borgomogliano e Belfortese hanno iniziato oggi sotto la pioggia ma lasciamo perdere i particolari, sapete che sarà difficile no? Sì sì assolutamente, il campionato secondo me quest'anno è ancora più difficile degli altri anni, quindi bello, competitivo, sarà difficile, noi abbiamo cambiato tanto, quindi circa 10-11 giocatori, quindi ci vorrà tempo insomma per sicuramente per un'alghama di gruppo, però diciamo che sono fiducioso insomma che possiamo fare bene. Parliamo anche di lei Micheoli? Sì, inizieremo sabato con l'Aurora Treia a Treia e poi mercoledì 28 parteciperemo al torneo Il Mastio organizzato all'Atletico Macerata al Campo dei Pini e il sabato successivo giocheremo qui a Tolentino contro la Stese, per adesso insomma abbiamo queste tre perché poi dovrebbe uscire il calendario della Coppa e quindi valutiamo poi in base a quello. In realtà bisognerebbe capire anche chi c'è perché ancora non si sa quali sono le 16 squadre che compongono la prima C. Sì sì, manca penso un tassello, una squadra che dovrebbe essere una squadra insomma dell'Anconetano ma sicuramente qualsiasi squadra c'è, il campionato è difficile e quest'anno tutte le squadre si sono attrezzate bene quindi vedremo quando uscirà.